Grazie Presidente, cari colleghi e signora Commissaria. Dunque, come prima cosa vorrei ricordare come qualche mese fa, ai margini di una riunione dello steering committee dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di cui faccio parte, una collega della Namibia ci ha fatto presente della sua delusione, poiché i prezzi di alcuni prodotti agricoli e non agricoli europei in Namibia sono più convenienti rispetto ai prodotti locali. Questa è una delle tante distorsioni del mercato sul quale Doha deve dare una soluzione. A questo proposito noi abbiamo presentato come liberal-democratici per l'Europa un emendamento che chiede non soltanto all'Europa, naturalmente noi ci rivolgiamo molto anche agli Stati Uniti, come la Commissaria sa bene, affinché si proceda rapidamente a una totale abolizione di forme di sussidio alle esportazioni. In secondo luogo, sulla questione dei servizi, tra le tante cose da dire, io ricordo che bisogna fare una netta distinzione tra servizi e servizi pubblici. Lottare, impegnarsi all'interno di Doha affinché vi sia una liberalizzazione dei servizi vuol dire combattere contro spesso delle vere e proprie oligarchie nazionali che soffocano lo sviluppo dell'economia sul locale. Oligarchie nazionali nel settore della comunicazione, nel settore bancario, nel settore dell'assicurazione e altri. Su questo noi dobbiamo cercare veramente di trovare la distinzione con tutto quello che riguarda invece il servizio pubblico che naturalmente deve spettare alla competenza dello Stato nazionale. Terza cosa che non è stata ancora sollevata, siamo entrati nella fase del Trattato di Lisbona e quindi io qui mi rivolgo, come fa anche la nostra risoluzione di compromesso, alla Commissione affinché si vada a una revisione dell'accordo interistituzionale. Si deve arrivare a un modus vivendi nei rapporti tra Parlamento e Commissione che sia del tutto innovativo, in modo che il Parlamento sia pienamente aggiornato di ogni negoziato, delle varie fasi del negoziato, che il Parlamento possa adottare delle raccomandazioni in corso di negoziato, che possa, come del resto accade in un negoziato diverso, ma che ha alcune analogie con i Paesi in via di adesione all'Unione Europea, ha un ruolo partecipe del Parlamento pieno e responsabile. Grazie.